Un assolo di Lucas D'Ambros a inizio ripresa spezza l'equilibrio e consegna al Nardò le chiavi del secondo posto del girone H in coabitazione proprio con il Barletta, uscito sconfitto 1-0 dal Giovanni Polo II. Il collettivo di Nicola Ragno reagisce dunque prontamente alla prima debacle stagionale in quel di Brindisi. Le formazioni, Nardò senza lo squalificato Turchisa in difesa ma con una DAE in più a centrocampo con Lex Ascoli all'esordio assoluto dal primo minuto. In attacco D'Ambros e Ferreira partono dall'inizio con Gionai pronto ad incidere a gara in corso. Nel Barletta Farina presenta il consueto 4-2-3-1 camaleontico con Di Piazza lanciato dall'inizio a discapito di Lattanzio. In panchina anche l'ultimo arrivato Scaringella. Il duello tra le migliori difese comincia di fatti con la perdita di un assoluto protagonista. Petta alza bandiera bianca per infortunio. Al suo posto telera. Gara maschia e condizionata da un manto erboso non in condizioni eccellenti. Ad animare il pubblico del Giovanni Polo II ci prova a DAE ma il suo avvitamento si spegne sul fondo. Primo tempo con più sbadilli che altro. Qui Ciriacì prova là solo ma mira da rivedere. Di ben più altra pasta la dipresa. Ferreira sveglia il pubblico neretino con il destro dai 25 metri. Pala alta. L'episodio che toglie il lucchetto alla partita arriva al 49esimo. Fedel verticalizza per D'Ambros. Piersanti e Marangi si scontrano costringendo l'attaccante a defilarsi ma il brasiliano tira fuori un pezzo di bravura fulminando Piersanti sul suo palo. Palla sotto le gambe ed 1-0 Nardò. Farina vede la squadra con poche idee e cambia. Dentro la Lattanzio e Cassatella per Macione e Milella con due punte di peso nel 4-2-4 Biancorosso. Ad essere pericoloso è però il Nardò. Punizione dal limite di Montinaro. Palla che accarezza il palo alla destra di Piersanti. Arriva il momento anche di Scaringella per l'Evanescente di Piazza. Ragno risponde con Mariano per l'autore del gol d'Ambros. Proprio il mio entrato a 15 dal traguardo cestina l'ottimo invito di Ferreira non trovando il giusto equilibrio. Nei Salentini entra anche Genai che si mette subito in moto sfruttando il pasticcio di Telera. Piersanti però è di ben altro avviso. Barletta meno ispirato del solito ma la palla del pareggio arriva all'87esimo. Polidori in tuffo trova la respinta di Viola con Feola successivamente atterrato in aria. Vibranti le proteste biancorosse ma per l'arbitro è tutto regolare. Difatti è l'ultimo squillo della partita. Fa la voce grossa il Nardò in campo ed in classifica agganciando proprio il Barletta al secondo posto. Semplice incidente di percorso per i ragazzi di Mister Farina che necessitano forse di tirare il fiato. Mercoledì nel turno infrasettimanale Barletta Fasano e di Maltamura Nardò.